Ciao a tutti e bentornati su Crash History. Oggi, come potete già vedere, un altro video alla lavagna, un altro video in cui proviamo a fare un'analisi tattica di uno dei grandi eventi bellici della storia, in cui cerchiamo di capire insieme il perché una determinata battaglia, un determinato evento bellico è andato in un certo modo. E l'evento bellico che esaminiamo oggi, come avrete letto sicuramente dal titolo, è la battaglia di Saratoga del 1777, uno degli eventi decisivi della guerra di indipendenza americana e che poi avrà come conseguenze abbastanza nel medio-lungo termine di portare proprio all'indipendenza degli Stati Uniti dalla corona di sua maestà britannica. Quindi sicuramente una delle battaglie più importanti della storia, studiatissima e osannatissima ovviamente negli USA dagli americani, di cui però oggi andremo a capire le ragioni e le motivazioni per le quali questa battaglia è andata in un determinato modo. Infatti lo scopo dei video alla lavagna tattica è come sempre quello di arrivare ad una comprensione più forte delle scelte e delle motivazioni strategiche che sono alla base di un certo evento militare. Capire che gli eserciti opposti non si svegliano la mattina e si danno appuntamento su un campo di battaglia a caso nel mondo, ma che ci si arriva alla battaglia per una serie di considerazioni tattiche strategiche ben precise e quindi come al solito vi chiedo se vi piacciono questo tipo di video, questo tipo di elucubrazioni strategiche mettete un like, fate sentire il vostro supporto perché come al solito alle lunghe siete voi che decidete quali tipi di video poi resisteranno e persisteranno sul canale di Crash History. Prima di immergerci quindi nel cuore del racconto strategico diamo un attimo due coordinate di contesto. Abbiamo detto che siamo nel 1777, quindi in realtà la guerra tra i coloni americani e le truppe britanniche è in quel momento in corso già da più di un anno. Infatti la dichiarazione di indipendenza delle colonie americane era avvenuta nel 1776 e aveva subito dato il là ad una guerra tra i due opposti eserciti. Guerra che in teoria all'inizio sembrava dovesse avere un esito piuttosto scontato. Gli americani partono senza avere un esercito ben addestrato, formale, ben armato come quello britannico dove invece appunto i soldati britannici sono i soldati di quella che in quel momento è già la più grande potenza europea e quindi mondiale, purtroppo in quel momento è così, e quindi sembrava davvero uno scontro tra dei ribelli impreparati e un esercito regolare, formale e addestrato che dovesse avere degli esiti completamente prevedibili e scontati. Tuttavia a distanza di un anno la guerra non era stata chiusa così facilmente dai britannici. In realtà le cose non erano andate subito benissimo, i britannici in realtà avevano ottenuto dei successi militari ma nessuno così tanto decisivo. Alla fine la distanza così lontana delle truppe britanniche dalla Madepatria, la difficoltà quindi negli approvvigionamenti, le lunghissime distanze del territorio americano che rendevano la logistica, quindi il trasporto dei rifornimenti estremamente difficoltoso, anche un sostegno da parte della popolazione locale molto ridotto rispetto a quello che gli inglesi si aspettavano, che pensavano ancora che la maggior parte della popolazione americana fosse lealista. Insomma tutta questa serie di fattori fanno sì che a un anno dopo in realtà la guerra è ancora aperta e ancora perfettamente in corso. Per spiegarci e capirci in che fase della guerra siamo e perché Saratoga cambia poi le carte in tavola, allora ci possiamo rifare alle parole di uno dei primi storici italiani che si è occupati di guerra di indipendenza americana, Carlo Botta, che scrive che in quel momento bisognava capire se gli americani potevano solo difendersi dagli inglesi dietro i ripari delle fortezze, delle selve, dei fiumi e delle montagne, siccome alcuni portavano opinione, ovvero se fossero abili a incontrarli sull'aperta campagna nelle battaglie giuste ordinate. Insomma, fino a Saratoga gli americani avevano dimostrato capacità di potersi difendere ma ancora non avevano dimostrato di essere in grado di poter battere davvero l'esercito americano in una battaglia campale e di poterne sostenere davvero la potenza. Saratoga deciderà tutto questo. Diciamo anche che io finora ho parlato di Saratoga come di un unico evento, ma in realtà in quella zona si sono svolte ben due battaglie a distanza di una ventina di giorni l'uno tra l'altro. Se non sbaglio con le date sono il 7 settembre e il 19 ottobre 1777. Quindi a pochi giorni di distanza si svolgono in quella zona intorno a Saratoga due battaglie che stabiliranno la vittoria degli americani e la sconfitta dei britannici e quindi segneranno un punto di svolta importante nella guerra. Tuttavia è opinione comune degli storici che in realtà le due battaglie di Saratoga siano scassati degli scontri in cui il valore delle singole truppe o le scelte dei comandanti sul campo di battaglia proprio nei singoli giorni delle battaglie campali non siano stati particolarmente decisivi. Non si trovano errori particolarmente grossolani, non si possono intravedere scelte particolarmente brillanti di un generale piuttosto che dell'altro. E allora perché a Saratoga vincono gli americani? E ancora prima perché si combatte proprio a Saratoga questo scontro così decisivo? Perché proprio lì? Ecco, questo video che stiamo per vedere vuole proprio spiegare da un punto di vista dei movimenti strategici sulla mappa perché ci si ritrova proprio a Saratoga e perché sostanzialmente già prima che si sparasse il primo colpo il 7 settembre in realtà la battaglia aveva già un favorito e quasi un vincitore. E allora è arrivato il momento di ricorrerci e ricorrere alla nostra fantastica lavagna. Mi raccomando datemi sempre feedback sulla lavagna, su quanto sia visibile, su quanto sia chiara. Una delle ultime volte mi avevate detto di aggiungere più colore quindi ho cercato di colorarla di più. Allora questa è la regione degli Stati Uniti in cui si svolge tutto lo scenario della campagna. Abbiamo qui la costa, queste che vedete non sono montagne ma sono le ondine del mare, quindi abbiamo qui tutta la costa occidentale americana. In fondo qui abbiamo New York che si staglia sul mare, mentre invece se New York è al sud di questa regione nella quale si muoveranno le truppe, il Canada rappresenta il confine diciamo settentrionale del nostro scenario, per cui abbiamo il lago di Ontario che in qualche modo delimita a nord la situazione. Il cuore della campagna è, come vedete nel corso di questi video di spiegazione tattica, questo è un tema ricorrente, il cuore della campagna è un fiume ed è il fiume Hudson. Tutta questa linea che adesso vi risottolineo in rosso e che scorre dal lago George fino a New York. Il fiume Hudson è sostanzialmente il cuore della campagna. Quindi abbiamo a sud New York, a nord il Canada, che non vi ho detto ma vi devo dire, è importante, è in quel momento in mano britannica. In realtà gli americani avevano provato a fare una sortita in Canada ma erano stati respinti. Quindi la situazione da un punto di vista geografico è questa. Saratoga si trova proprio al centro di questo scenario e si trova in un punto strategicamente molto importante perché è all'incrocio alla confluenza tra due fiumi, l'Hudson e il Moak, che si chiama così in onore della tribù indiana. Dunque, se vogliamo rispondere alla prima domanda, ovvero perché Saratoga, dobbiamo guardare proprio questa situazione e ci dobbiamo interrogare su qual era il piano dei britannici. Cerchiamo di metterci il cappello del comandante in capo britannico, del generale britannico e cerchiamo di capire in un scenario del genere che cosa voleva fare. In questo scenario il comandante in capo delle forze britanniche è il generale Bargoyne. Eccolo qua, è la nostra pedina che è stanziato a nord, anzi tecnicamente di qua, parte dal Canada. Qual è il piano del generale? Cosa vuole fare? Partiamo sempre da questo. L'idea è sostanzialmente condurre una campagna scendendo da nord lungo, ve lo faccio, ve lo mostro un momento la pedina, da nord a sud scendendo lungo il corso del fiume Hudson. Quindi scendendo tutto qui, scendendo lungo il fiume Hudson. Perché? Qual è l'idea? L'idea è una volta conquistata la linea dell'Hudson è quella di essere in grado di separare gli Stati Uniti occidentali dall'est, dall'entroterra e creare una trappola per le colonie ribelli. Perché dobbiamo tenere presente che sul mare c'è la Royal Navy britannica. Il mare è controllato dalla Royal Navy. A nord ci sono i britannici in Canada. Quindi tagliare il territorio americano attraverso l'Hudson vuol dire creare una prigione qui per gli americani che si troverebbero intrappolati con i britannici a ovest, sul mare e a nord. Insomma, isolarli e tagliarli. Ok, quindi se questo è il piano del generale Bargain, o almeno è l'intenzione di partenza, dobbiamo capire come ha fatto, come anzi voleva fare a realizzare questo piano e a ottenere questo risultato strategico importante. L'idea di tutto era sostanzialmente marciare a sud fino a raggiungere la città di Albany, che in quel momento era la città strategica più importante sull'Hudson. ma nel farlo non sarebbe stato da solo. Bargain concepisce infatti una manovra a Tenaglia in cui lui sarebbe sceso dal Canada verso Albany. Dopodiché ci sarebbe stato un secondo contingente guidato dal colonnello St. Legger che, spero che la pronuncia sia corretta, che sarebbe partito dal lago Ontario e dalla località di Oswego e che si sarebbe mosso da est verso Albany. Contemporaneamente, in quel momento a New York c'erano truppe britanniche, c'era il generale Howe, quindi la terza linea di attacco sarebbe stata proprio quella condotta, sempre risalendo lungo il fiume Hudson, dal generale Howe. Insomma, l'idea era arrivare ad Albany da tre direzioni diverse, avere un esercito notevolmente superiore agli americani, ottenere la superiorità locale, che è uno dei principi strategici base di ogni guerra, ad Albany e arrivare qui, o con conquistare la città e quindi la linea del fiume Hudson. Come vedete nel descrivere questa campagna, sto adottando molto il punto di vista britannico, perché in realtà l'azione viene portata avanti dai britannici, sono i britannici che hanno in mano l'iniziativa. Qual è l'idea degli americani in tutto questo? Ma in realtà è molto semplice resistere. A capo delle forze americane nella zona c'è il generale Gates e, ve lo mostro qui, non so se si vede, Gates, scritto così, che comanda le forze americane ed è nella zona e il suo piano è sostanzialmente quello di condurre una campagna difensiva. Gli americani in questo momento non hanno l'iniziativa. E infatti alla fine vediamo che se il piano britannico viene giudicato da tutti gli storici, gli analisti, molto positivo, in realtà incomincia ad andare male proprio per difetti interni ai movimenti, al coordinamento e alla logistica degli stessi britannici. La spedizione di Bargain dal Canada a scendere parte il 17 giugno 1777. Ricordiamo che la prima delle due battaglie di Saratoga si svolgerà a settembre. Bargain comanda un esercito di 8.000 uomini, quindi abbastanza grande tutto sommato per quelle che sono le proporzioni della guerra di indipendenza americana, un esercito che è costituito in parte da britannici, in parte da truppe mercenarie, diciamo tedesche, in parte dagli alleati indiani e incomincia quindi la sua discesa dal Canada. Bargain incomincia a scendere e subito si capisce una cosa. È lento, è estremamente rallentato. L'esercito è grande ma è rallentato dai carriaggi, è rallentato dai cannoni, non conosce molto bene il territorio nonostante gli alleati indiani e ha tante bocche da sfamare perché i britannici si portano con sé un gran numero di donne che non è una cosa, un'eccezione ma era abbastanza la norma per gli eserciti dell'epoca, ci ho fatto anche un video al riguardo, donne che erano anche utili, servivano a questi eserciti. Insomma, procede molto lentamente e arriva davanti al primo ostacolo. Il primo ostacolo è il forte Ticonderonga che in quel momento è in mano agli statunitensi, agli americani. Le truppe all'interno del forte Ticonderonga in realtà non sono molte, Bargoin attacca, occupa il forte. A questo punto Bargoin continua la sua riscesa giù, è sempre estremamente lento e questo in realtà già ci fa capire quali sono i problemi. Più Bargoin scende, più le sue linee di comunicazione con il Canada si allungano, più ci vuole tempo per fare arrivare rifornimenti, più si inoltre in un territorio in cui è anche difficile camminare, ricco di foreste, inaccessibile, ma soprattutto si allungano queste linee di rifornimento, qua si sta allontanando dalle sue basi e tu più ti allontani più è un problema. Anche perché dobbiamo pensare che un esercito che avanza in territorio nemico, più avanza più perde uomini. E sì, perché ogni volta che tu occupi una postazione, non la puoi abbandonare a se stessa. Bargoin ha conquistato forte Ticonderonga, deve lasciare alcune centinaia di uomini nel forte e avanzare. Ogni e poi ha bisogno di lasciare uomini dietro per garantire la sicurezza delle linee di comunicazione da eventuali attacchi nelle tetrovie degli americani, dei rivoltosi. Quindi più Bargoin avanza, più quegli 8000 uomini in realtà si stanno riducendo, per non parlare delle perdite che ovviamente c'è in ogni scontro. Quindi incominciamo a capire che avanzare in questo territorio così ampio è, perché sulla rattina forse non rende, ma ci sono tanti chilometri da fare, non è proprio banale. Comunque Bargoin avanza, l'altro ostacolo che si trova avanti è Fort Edwards, Bargoin attacca e conquista anche Fort Edwards. Insomma, è lento, sta perdendo uomini, però avanza e procede nella sua campagna, per il momento ancora senza troppe grosse difficoltà. A questo punto però arriva il primo grattacapo grosso per Bargoin. E come vi dicevo, il grattacapo non viene dai rivoltosi che deve affrontare, ma viene dalle sue stesse forze, ovvero viene dal generale Howe. Eccolo qua. L'abbiamo lasciato, abbiamo letto a New York e abbiamo detto che secondo il piano di Bargoin lui avrebbe dovuto risalire l'Hudson per arrivare ad Albani, da sud. Il generale Howe però non va molto d'accordo con Bargoin. I due hanno due visioni della guerra, molto diverse, c'è anche una forte rivalità personale. Howe prende un'iniziativa separata e invece di muovere a nord, muove verso sud. Cosa c'è a sud di New York in questa direzione qui? Ebbè, c'è Filadelfia. C'è Filadelfia che in quel momento è sostanzialmente la capitale, tra virgolette, è il cuore del comando delle truppe americane. A Filadelfia c'è Washington. Howe quindi va a sud e in effetti sconfiggerà Washington. Otterrà anche dei risultati importanti giù verso Filadelfia. Fa delle ottime cose. Il problema qual è? Il problema è che Bargoin in questo modo ha già perso sostanzialmente un pezzo di quella che era la sua manovra e il suo piano. Ma intanto, questo non è l'unico problema per Bargoin. Come vi dicevo, c'è sempre il problema dei rifornimenti. C'è sempre il problema di queste truppe che ormai si sono inoltrate troppo in profondità in territorio americano e che fanno fatica ad alimentarsi. Di conseguenza, Bargoin è costretto a prendere un distaccamento, anche piuttosto corposo, parliamo all'incirca di 1400 uomini, e di mandarlo nelle zone intorno a Fort Edward a cercare sostanzialmente rifornimenti, a cercare qualcosa da mangiare. Questo distaccamento arriva nella zona di Bennington e viene sorpreso da forze americane superiori. Ci sono gli uomini del generale Stark, uno degli eroi della guerra americana. Il distaccamento viene sconfitto e viene sconfitto brutalmente. Bargoin perde ancora uomini, subisce una sconfitta che non è decisiva, ma ha perso intanto altri soldati. Le cose si stanno mettendo sempre peggio. Ma i guai per i britannici non finiscono qui. Infatti, se vi ricordate, vi ho detto che l'attacco doveva avvenire da tre direzioni e la terza direzione era da est. Ci sono le forze del colonnello Sand Lager sul lago Ontario. Sand Lager, a differenza di Howe, rispetta il piano, avanza, 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 avanza. Il primo ostacolo vero che si trova davanti è Fort Stevens, cioè mettiamolo così così si legge bene, questo forte qui, tenuto dagli americani. Siamo a inizio agosto, Sand Lager mette sotto assedio il forte, ma non riesce ad averne ragione. Gli americani ad un certo punto escono dal forte, fanno una sortita, sconfiggono duramente Sand Lager e a quel punto è chiaro. Da qui non si passa. Fort Stevens risulta un baluardo che non si riesce a superare. Sand Lager ripiega, torna indietro e alla fine torna su Ego, sul lago Ontario. Insomma, anche l'altra componente dell'attacco britannico a questo punto è venuta meno. Quello che doveva essere un attacco che doveva procedere da tre direzioni diverse è divenuto un attacco che sta procedendo ormai solo da nord verso sud. Bargoin è rimasto da solo ad andare avanti. Ecco che state incominciando a capire quali sono le ragioni della sconfitta dei britannici a Saratoga. Nulla sta andando come previsto. Quello che doveva essere un enorme dispiegamento di forze intorno ad Albani si è estremamente ridotto. Invece i soldati americani stanno giungendo a Saratoga. Le forze del generale Gates crescono di giorno in giorno e alla fine si arriva all'inizio settembre in una situazione per la quale Gates ha praticamente il doppio o quasi delle truppe di Bargoin. Ecco, immaginate di mettere il cappello da generale britannico e di essere al posto di Bargoin. I vostri piani non sono andati come pensavate. Avete meno truppe ormai dei vostri avversari. Siete qui fermi a Forte Edward ma è ormai inizio settembre. Vuol dire che l'estate sta finendo. State andando incontro all'inverno. Che cosa fate? Ecco, quello che a voi state pensando e quello che tutti gli storici militari dicono che avrebbero dovuto fare era desistere. Basta, la campagna a questo punto doveva essere già finita. Con l'inverno che incombe, con l'impossibilità di ricevere rinforzi, con un'inferiorità numerica, ormai di fatto difficoltà ad avere rifornimenti, Bargoin a questo punto si sarebbe dovuto ritirare. Magari a Forte ti con deronga. Magari ancora più su. Provare a svernare e magari riprovarci un'altra volta. E invece è qui, è l'errore, è qui che perde, che i britannici perdono. Cosa fa Bargoin? Bargoin decide di giocarsi il tutto per tutto e avanzare lo stesso. Perché fa questa scelta? In parte è indole personale. Bargoin è un generale molto audace che non ama le ritirate e ama avanzare. Da un lato è una questione di prestigio. Questo è il suo piano e la sua campagna prima di rinunciare e di giocarsi la faccia vuole provare il tutto per tutto. Dall'altra parte ha anche un'illusione perché si viene a sapere che a New York sono rimasti circa 3.000 uomini guidati da un altro generale, il generale Clinton, che non ha mosso verso sud, verso Philadelphia, ma è rimasto a New York e sarebbe disponibile a risalire l'Hudson. La verità è che le truppe del generale Clinton sono poche. Ancora non si è mosso da New York ormai a settembre e quindi è fuori discussione che possa raggiungere Albani e Saratoga in tempi umani, in tempi ragionevoli. Però questa vaga speranza vincuora a Bargoin. Pensa che forse c'è ancora una speranza, pensa che forse qualcosa ancora si può fare e quindi Bargoin, che l'abbiamo lasciato fermo a Fort Edwards, decide di avanzare. Avanza lo stesso, avanza verso Albani e incontrerà gli americani nel luogo dove loro si sono appostati, cioè a Saratoga, che rappresenta proprio l'ultima barriera prima di Albani. A questo punto, però, come avete capito, l'andamento della campagna e le scelte strategiche fatte fino a quel momento fanno sì che lo scontro sia già segnato. Il 19 settembre 1777 avviene la prima battaglia di Saratoga, la battaglia che prende il nome di Freeman's Farm, perché in realtà non avviene proprio a Saratoga la battaglia, ma un pochino più avanti. È una battaglia che è ancora non particolarmente decisiva, perché è uno scontro nel quale i britannici a fine giornata rimangono sul campo di battaglia e quindi teoricamente risultano i vincitori, ma nel quale in realtà le forze americane di Gates non vengono annientate. Quindi è uno scontro poco decisivo e che vede però un piccolo vantaggio da parte dei britannici. Le due forze restano in qualche modo ferme per una ventina di giorni, a Gates continuano ad arrivare in inforzi, Bargain invece è sempre lì da solo. Alla fine, il 7 ottobre 1777, si avrà quindi la seconda battaglia di Saratoga, quella che tecnicamente si chiama, leggo, Bemis Heights e lì praticamente i britannici tentano di farsi avanti, gli americani sono in grado di respingerli, addirittura poi di inseguirli e insomma alla fine in una battaglia, ripeto, che non vede grandi errori da parte di Bargain, ma che in realtà vede sostanzialmente una sproporzione di forze enormi che vede combattere da un lato un esercito britannico ormai col morale a terra, scosso anche dalla difficoltà di avere approvvigionamenti e un esercito americano invece è più forte, più numeroso, più motivato. Anche la seconda battaglia termina con un esito più decisivo, più importante e con questa seconda battaglia alla fine Bargain, lì a qualche giorno, deciderà di arrendersi e si arrenderà al generale Gates. Vi leggo ancora come Carlo Botta, ancora come vi dicevo uno dei primi storici italiani che si è occupato di Saratoga, descrive la condizione dell'esercito britannico, anche per farvi capire con delle parole migliori delle mie come era la situazione all'indomani della battaglia di Saratoga. Scrive Botta, non si potrebbe con parole meritevolmente descrivere l'infelice condizione in cui era condotto l'esercito britannico, stracche leggenti e quasi vinte dalle continue fatiche e dai travagli degli aspri combattimenti, abbandonate dagli indiani e dai canadesi, perduti più valorosi soldati e migliori comandanti. Svanita ogni speranza di ritirata, investite ed accerchiate da tre parti da un nemico quattro volte più numeroso di loro, gonfiato dal favore della vittoria. Infine, nessuna novella di soccorso, nonché fondata, vana, trapelando da parte nessuna, tutti unitamente opinarono doversi cedere alla fortuna e introdurre una pratica d'accordo col generale americano. Insomma, dopo la battaglia di Saratoga, ormai è chiaro, l'esercito britannico a terra non può più combattere, Bargain si arrende e siamo ancora in parte nel contesto delle guerre minuetto, delle guerre gentili. Ci ho fatto un video tra l'altro riguardo, se volete potete andarvelo a recuperare. Si ha una resa vi raccolta dagli americani con tutti gli onori. Bargain e Gates si incontrano in maniera molto colloquiale, molto cordiale, hanno dei colloqui. Gates, che pure in una situazione di superiorità, concede ai britannici quella che addirittura non viene chiamata una resa, ma viene chiamata la Convenzione di Saratoga. In realtà è una resa, però la si maschera. È la Convenzione di Saratoga con i quali i britannici hanno questa condizione molto onorevole, per cui Bargain può salvare i suoi uomini. Il patto è che con le proprie gambe lui e i suoi uomini se ne vadano, si imbacchino sulle navi della Royal Navy e lasciano il continente americano per non tornarci mai più a combattere nel corso della guerra. Un patto basato sostanzialmente sulla buona fede e che fa un favore ai britannici, perché ovviamente è vero che mantenendo fede al patto queste truppe non è come se fossero state eliminate dal gioco di questa guerra, però sono altre truppe che si possono magari rischierare in altri scenari, in altre guerre, in qualche angolo di mondo e recuperarne altre per mandarle in America. Quindi è una buona situazione. Ma detto che i britannici ottengono questa pace molto onorevole, la battaglia di Saratoga è per gli americani invece una svolta. È quella che, se ricordate le parole che vi ho citato di Carlo Botta all'inizio del video, è quella che dimostra che gli americani non sono in grado solo di difendersi, ma sono in grado di configgere i britannici in una battaglia. È grazie alla notizia di Saratoga che i francesi si rendono conto che la causa degli americani può valere e che vale la pena investirci. È grazie a Saratoga che alla fine i francesi decidono di allearsi con gli americani e mandano truppe a sostegno degli americani e sarà decisivo per le sorti della guerra. Quindi Saratoga è proprio la prova provata che gli americani forse possono non solo difendersi e questa guerra la possono vincere. Ok, spero che il video sia stato chiaro, sia stato interessante. Fatemi sapere tutto quello che ne pensate nei commenti e io nulla, vi aspetto alla prossima. Intanto, se volete, seguitemi. Ciao!